benvenuti in questo nuovo video allora i video che arriveranno sono audio fatti da alcune persone del gruppo quindi la metafonia non sarà chiarissima ma ci vuole molto orecchio per sentirla ovviamente l'esperienza che mi porto dietro riesco a capire cosa dicono anche se a voi magari non sarà chiarissima allora l'esperimento che viene fatto si sta facendo ecco gli utenti del gruppo sono stati certe sei persone col sistema della ruota e quindi hanno fatto un audio che parlano proprio caro alcuni doveva essere di un minuto minuto e mezzo alcuni hanno mandato 30 secondi alcuni giusto un minuto minuto e mezzo minuto e venti la problematica è che sono state inserite tante domande ma non potranno mai rispondere a tutte le domande che voi ponete cioè l'audio doveva essere tipo un colloquio con il vostro caro o il parlare del vostro caro comunque non fate la casa nel senso che comunque c'è un accordo tra me e le guide e infatti in un prossimo video in un prossimo audio sentiremo il nome olmo e quindi non è metafonia mia ma è una registrazione di un audio che non ho fatto io e quindi sentire la parola olmo lascia non lascia nessun dubbio nel senso infatti anche in questo video che sentiremo c'è la parola siro siro è stata una mia guida olmo è una mia guida come pietro come tante altre guide che sono i ministri che comunque ci aiutano a fare metafonia e aiutano a portare i vostri cari qui a mandare un messaggio in questi audio sono stati tratti da un esperimento fatto cinque anni fa non mi ricordo molto bene comunque in youtube c'è il video del titolo il video è leggendo un libro leggendo un libro specificatamente era la bibbia sono venute fuori interazioni e quindi un colloquio comunque con la dimensione che c'è di là poi avevo accantonato il progetto ho visto che in un altro gruppo hanno ripreso questa metodica non dico che è stata inventata da me però comunque la persona che era presente ai tempi nel gruppo ha preso la palla al balzo e ha insegnato a un'altra persona questa questa metodica ho visto che comunque questa melodica funziona però comunque ci deve essere un accordo tra diciamo me e i ministri che seguono quella determinata persona infatti io qualsiasi cosa ti chiedo non si sa come mai mi accontentano ho chiesto di stare vicino le persone che faranno questo audio di fatti io ho detto stai vicino a 1 2 3 4 5 6 persone quando faranno l'audio e infatti in un audio anche in questo sentiremo un ministro a parola di un ministro ora la metafonia non è chiarissima ripeto perché comunque non è fatta da me ma è fatta da voi nel senso è fatta da queste sei persone che sono state scelte ora andremo a sentire il primo il primo video il primo audio che ho ricevuto allora andiamo schermo intero e andiamo a sentire ovviamente come ho detto non è metafonia chiarissima ma comunque l'importante che la capisco io la sentiremo in versione non sentiremo l'audio per questioni di privacy in dritto perché ho girato la traccia e nelle interazioni che ci sono in questa traccia le ho tagliate e le ho messe da parte e quindi sentiremo che cosa dice il vostro caro o il ministro adesso in questo caso non mi ricordo chi chi aveva chiamato aspetta graziella un attimo no giusi forse la mamma non lo so comunque perché comunque mi sono accorto che comunque anche se voi avete chiamato vostro papà o mamma comunque risponde una persona che è accanto a voi una persona che comunque è della vostra famiglia quindi andiamo a sentire l'audio allora qua l'ho ripetuto tre volte qua dice qui stare oggi perché dovevo mandare il messaggio non è una metafonia chiara però io so che cosa stanno dicendo andiamo al prossimo qua dice restare molti di praticamente sta spiegando che è venuta perché sapeva che c'era in ballo questo esperimento perché comunque loro sono anche avvertiti delle cose che io faccio e che io chiedo ai ministri poi sono maggior parte sono a fianco a voi vedono che cosa stai facendo con chi stai parlando eccetera eccetera e quindi era preparata questa cosa adesso vediamo l'altra interazione allora qua dice solo l'ombra e sto a est cioè in quel momento stava a est dove stavi registrando tu l'audio e dice solo l'ombra non mi puoi vedere non mi puoi percepire almeno se non hai facoltà mediane che molto molto alte nel senso magari si può sentire di freddo magari una presunta presenza di ciò c'è qualcuno vicino a me qualcosa di questo genere insomma e comunque qui dice che è vicino a te andiamo a sentire un altro pezzo non so bene dove inizia e dove finisce vediamo se tutto questo qua dice a papetta ti vedo vestita si vede che forse in quei giorni lì che stavi registrando il video ti ha visto vestita in un modo bello magari si è andato da qualche parte non lo so e dice a papetta non so se è nominativo poi vedrai tu o che cosa vuol dire io sento così a papetta qualcosa di questo genere insomma diminutivo ecco e qua dice siro ecco qua sentiamo forse meglio un'altra volta la parola siro non è una metafonia mia ma è un audio registrato da voi e sentite bene qua si sente bene siro siro vi amelo siro vi amelo cioè nel senso amate siro perché lui vi ama vi sta a fianco e vi guida e vi protegge insomma ci deve essere uno scambio di amore tra la nostra dimensione e la loro dimensione noi dobbiamo amare loro e loro amano noi e quindi è molto bella questa questa interazione insomma andiamo avanti a finna orta uco da gambe a finna orta uco da gambe a finna orta uco da gambe qua dice a finna orto non portarmi alla me molto probabilmente non so se hai portato un fiore sulla tomba o dei fiori sulla tomba e dice qua molto probabilmente sento che c'è sento credo che è la tua mamma e dice non portarlo a me a me non mi servono fiori non mi servono queste cose forse vuole intendere che c'è un altro animo dalla tua famiglia che forse ha bisogno non del fiore nel senso loro non dicono del fiore magari è una preghiera o una messa in suffragio ha una determinata anima ecco insomma sentiamo praticamente questa alla fine quest'audio era di 30 secondi sono usciti fuori queste interazioni che comunque sono riperdute per tre volte nel capo ti ho sempre nel senso nella mente nel cuore eccetera eccetera ti ho sempre cioè io ti praticamente io ti amo io ti voglio bene sei sempre nei miei pensieri e poi alla fine dice chiudi si sente molto bene la parola chiudi 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 andiamo sul mio faccione insomma questo è il primo video di questo esperimento ovviamente c'è da affinare la tecnica perché già l'intonazione della voce la velocità del parlato eccetera eccetera deve essere sistemata questo comunque è il primo audio poi ce ne arriveranno altri alcuni audio sono un po' più chiari quindi perché comunque il tono di voce della persona cambia il sesso cambia le parole scandite cambiano difatti mi è capitato un video dove c'era la persona che diceva e questa cosa non andrebbe fatta perché comunque col m e non ci sono interazioni e qui vediamo che comunque come sempre e come sempre ho detto ci sono a disposizione dei suoni in questo caso la voce viene modulata e modificata per mandarci un messaggio o interagire con noi non è detto che devono per forza mandarci un messaggio ma possono interagire che già l'interazione con noi da un mondo dove noi non vediamo non percepiamo è già tanta roba insomma molta gente non crede neanche in audio un po' più udibili figuriamoci in questa sperimentazione ma a me interessa poco nel senso a me interessa che comunque c'è una sorta di interazione con loro a me interessa solo quello poi la gente che crede o non crede soprattutto chi non crede non mi interessa proprio ho visto dei commenti un po' parecchio strani a volte non rispondo neanche o li cancello perché in otto anni ormai trovare il il genio di turno che mi viene a dire io non esisto ho detto bravo quando tu andrai di là ricordati il mio nome che io ti aiuterò questa questa è la risposta di un commento che ho dovuto fare e niente prossimamente prenderò dei nomi che così però allora voglio anche specificare magari l'esperimento di questi audio continuerà con il gruppo prenderò i nomi per fare le sessioni io da youtube e dal sito internet però quelli del gruppo non dovranno iscriversi perché andremo avanti a fare questo esperimento così riesco a contentare più gente possibile io faccio le sessioni i membri si auto sessionano no vabbè fanno il loro audio e io le ascolterò e farò la spiegazione come in questo caso e come nei prossimi video e niente alla prossima ciao 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 ciao